L'ex ministro dell'integrazione Chienge ha recentemente dichiarato non possiamo portare le persone in un luogo dove c'è già sofferenza, si parla di immigrati. Ovviamente bisogna approfittare delle nuove pratiche. Ci sono anche quelli che mettono a disposizione modelli che sono riusciti sui quali lavorare, come per esempio la pratica di mettere piccoli gruppi di immigrati nelle case dei cittadini. Lei cosa ne pensa? Sarebbe disposto ad ospitare gli immigrati direttamente a casa sua oppure pensa che è eccessivo? Non mi sono mai posto questo problema. Devo dire che è una bella sfida. Forse bisognerebbe anche valutare con che grado di integrazione riusciremmo a fare integrare queste persone all'interno di nuclei familiari che magari in Italia hanno già altri problemi, altre aspettative. È un problema molto complesso, è una domanda difficile a cui trovare una risposta. Diciamo che è tendenzialmente favorevole ma vorrebbe comunque capire quanto sarebbe utile. Sì, assolutamente. Vorrei capire che vantaggi potrebbero trovarne tutti e due i soggetti coinvolti. Dovrebbe essere uno scambio alla pari, un'integrazione che potrebbe portare dei vantaggi anche ai nostri piccoli italiani per imparare a conoscere quello che è diverso e non temerlo necessariamente. Però forse va affrontato con molta cautela. Contrario. Come mai? Per una serie infinita di ragioni, tra l'altro le ragioni sanitarie perché è reciproco problema ma non sappiamo che esigenze hanno e non sappiamo come può essere l'integrazione. Se dovessero mettere in pratica tutti i controlli sanitari li ospiterebbe poi oppure no? No, si lasciano di là, si aiutano di là e li si insegna a fare le cose perché hanno anche loro, hanno la terra, hanno tutto, possono lavorare, possono produrre. Quindi lei pensa che la soluzione al problema sarebbe quella? Aiutarli di là, a casa loro, non utile farle a negare. Se invece ci sono paesi dove c'è la guerra? Beh, purtroppo l'abbiamo affrontato tutti la guerra e aiutiamoli anche ad avere delle misure per affrontare la guerra. Però nel loro paese? Però sempre nel loro paese. E' inutile buttarli nel mare, nell'oceano. Secondo me la prima cosa da fare è verificare se questi profughi, se questi immigrati che arrivano purtroppo in quantità notevoli in Italia siano profughi o comunque siano persone di un altro genere, tipo, e lo sappiamo benissimo, quelli che possono essere. Io sono favorevole però praticamente che queste persone che arrivano, che siano a posto, per messe di giorgiorno, che siano persone regolari dove possono stare comunque in Italia e non solo in Italia. Quindi li ospiterebbe a casa sua, è favorevole? Guardi, in caso di necessità estrema non è che, però troverei sicuramente altre soluzioni. Le soluzioni le abbiamo, basta considerare che abbiamo degli alberghi che se non era per queste persone qui, questi alberghi qui potevano chiudere o erano già chiusi. Con queste torri qui, perché secondo me poi il problema è politico, non se ne parla, il problema delle cooperative, eccetera, 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 potrebbe essere che questi qui ricevono comunque da questi albergatori, da queste strutture, così, sono gestioni provvisorie ma comunque possono stare qui il tempo così, perché stando a quello che dicono gli immigrati non vorrebbero fermarsi in Italia, vorrebbero magari avere uno sbocco per andare in Francia, per andare in Inghilterra, per comunque andare negli stati del nord, è tutto da vedersi, è chiaro che poi se non sono regolari, se sono più o meno regolari, poi c'è anche un problema di sicurezza, bisogna stare attenti a chi arriva, perché poi si mischiano fra di loro, chi arriva, punto di domanda. Prima di trovare delle soluzioni per quanto riguarda la sistemazione, bisogna controllare chi arriva, quindi c'è un problema di sicurezza. Assolutamente sì, controllarli bene, sono tanti, perché anche l'autorità pubblica, comunque le amministrazioni fanno fatica, però insomma l'impegno deve essere tanto e tutto e completo da parte di tutti per far sì che queste persone comunque, che scappano dalle guerre, non è che vengono qui e spendono dei soldi, perché basta considerare cosa fanno gli scafisti di queste persone, quindi sono esseri umani come noi, insomma, quindi ci fa presto dire buttiamoli a mare, beh insomma, non è proprio facile. Grazie a tutti.